Posso fare una foto con Annalisa? È la mia cantante preferita. Ma certo che puoi fartela. Devi soltanto capire dov'è. Come? Non sono Annalisa, io sono una cantante vera. La tua cantante preferita sa solo fare Ti amante lei e lui c'è lui. Brava. Ma lo vedi? Qualsiasi cosa faccio mi scambiano per quella. Non riuscirò mai a fare la cantante. Ma io che ci sto a fare? Al 99,99%.